Ancora una volta il sistema sanitario del sud della provincia di Salerno, Balbetta, sono due i casi in questione. Nella mattinata di ieri una donna di Santa Marina di 80 anni è stata trasportata all'ospedale di Sapri per un problema all'esofago, probabilmente per la presenza di un pezzo di carne ingerito che provocava dolore e problemi respiratori. Almeno questo aveva palesato la paziente. È stato quindi disposto un controllo dell'esofago, un esofago gastroduodenoscopia, d'urgenza per sospetto boleocarneo. Tuttavia l'esame non è stato possibile effettuarlo nell'ospedale di Sapri per assenza di personale medico, così si è deciso per il trasferimento. Ragion avrebbe voluto che il trasferimento doveva avvenire nel vicino ospedale di Vallo della Lucania, che rientra nella rete delle emergenze e urgenze del settore. Ma anche in questo caso la carenza di personale ha obbligato a una nuova decisione il trasferimento a Luigi Curto di Polla, a 80 km da Sapri. L'anziana donna è stata quindi trasportata a Polla e sottoposta alle cure del personale sanitario del reparto di gastroentologia, dove era presente l'unico medico in servizio del Basso Salernitano. Poi stabilizzata è stata ritrasferita sempre in ambulanza a Sapri. Ma la mobilità sanitaria da diverse settimane si vive anche a causa dell'attacca di Polla. Il macchinario lavora a singhiozzo e sono continui guasti che costringono il personale medico al trasferimento dei pazienti verso Eboli. È successo prima di Natale con un ferito grave a causa di un incidente ed è accaduto anche a cavallo di Capodanno, anche dopo che la strumentazione era stata aggiustata. È vergognoso, ha commentato lapidario il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL, Sergio Annunziata.